Ciao a tutti ragazzi ancora Andri di Let's Play FIFA www.letsplayfifo.it link patino a facebook in descrizione le solite cose le sapete e sono qui oggi con il secondo pacco winning dell'app hour perchè il primo ha raggiunto anzi superato i 100 likes e quindi come promesso carichiamo questo secondo pacco winning siamo in un'altra account xbox altri 5 pacchetti a 25.000 ad aprire altra speranza di trovare CR7 SIF o una leggenda in un pacchetto e quindi speriamo vada così primo pacchetto alla banca verdina si parte ah no abbiamo degli oggetti non assegnati cazzo niente allora come ho detto adesso si parte veramente attenzione attenzione allora ricerca di una leggenda nessuno youtuber italiano trova una leggenda in un pacch andiamo andiamo oh company beh 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 non male una partenza non male a dir poco company in un pacch tra l'altro quest'anno company non l'ho ancora l'ho ancora provato l'ho ancora provato loucodrerò senza altro non non ccxbox dato che non ce l'ho company hernanis un'ottima partenza pacchetto ultra rifatto e si va va bene così va bene così come on guys secondo pacchetto attenzione apriamo 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 Tramonto il Ligo Tra tutti gli 84 Penso di che ha otto quello che vale di meno Sulla faccia della terra Infatti va quasi al prezzo di scarto Però noi lo inviamo All'estratasferimenti Tanto per Tanto per Vabbè Company nel primo pacchetto E quindi già abbiamo salvato il bonus full Mi sa Attenzione Terzo pacchetto Falcano in copertina Palla, gira Vai, dai 300 player Vai Uh, check 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 e Company Una BPL fortissima E solo nei primi Tre pacchetti Non male Anche questo pacchetto No, non ce lo siamo rifatto Perché siamo su Xbox Check non va Va tantissimo Trovare un giocatore da 85 Ha sempre piacere Inviiamo anche Matteo Valbuena In Pila Scambi Dato che a 1000 si vende Più o meno E andiamo Con il quarto pacchetto Signore Già quarto pacchetto Quindi i 100 millesimi crediti Che andremo a spendere Ecco qua Kyle Copertina Gira Palla Gira Portaci Company Qualcuno di meglio Attenzione 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 Gira la palla 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 E ci porta Weidenfeller Begovic Colocini Tutti i BPL Un oro raro della BPL Non è il pack Vabbè Anche questo Paco winning è finito E allora io vi rimando Al rotto 300k Che si è concluso oggi All'altro video del Paco winning Vi dico che domani uscirà Il team of the week prediction E un altro video speciale In settimana arrivano le review Delle leggende E del team of the week 11 Quindi continuate a seguirci Non ve ne mentirete Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Ci sentiamo al prossimo video